Questi venticinque anni di Episcopato, voi siete stati testimoni del mio insegnamento e della mia vita. E pertanto vi chiedo di domandare per donna Dio, per me e con me, di tutte le mie mancanze e inattempienze. E se invece potete ralegare di qualche aspetto positivo circa il mio ministero della parola e dei sacramenti e circa la mia vita, lodate con me, Signore, e con me ringraziate. In profonda comunione continuiamo ad operare a tutto coppia affinché in tutte le cose sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo.